Ciao sono Johnny95 e oggi siamo su Uncharted capitolo 18 il bunker eravamo rimasti qua con Elena e degli zombie sbarati dalla porta di acciaio ferro lei ha detto che vuole rimanere qua perché mi sarebbe solo di peso e non riuscire a mandare avanti quindi io mandare avanzare da soli e lei rimarrà qua rischiando il pericolo che i zombie possano trepassare la porta e lasciandoci da soli dobbiamo noi dobbiamo andare al bunker e a riattivare la corrente in modo da poter utilizzare questo ascensore e dobbiamo farlo da soli quindi è ora di andare ok dobbiamo scendere no dobbiamo salire la vedo della roba ok sto usando tutti i tubi che ci sono no cade no non cade non cade adesso la catena ma dobbiamo andare qua o potevamo scendere no perché sto facendo una scalata che non so quale famosa rampicatore attenzione qua che rompiamo tutti i tubi ok no adesso dobbiamo andare in corsa salta ok perfetto e adesso dobbiamo saltare giro 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 vai 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 siamo sopra a un punto veramente brutto ok siamo riusciti a passare dall'altra parte ma dovevamo andare di qua o c'era un tesoro dall'altra parte c'era un tesoro me lo scrivete nei commenti o no comunque nel caso ci andavo a prendere poi off camera allora adesso andiamo avanti perché secondo me devo scendere dall'altra parte qua dove si va qui mi sa di ambientazione horror potrebbero esserci i zombie no perché i zombie oh salivan niente salivan non lo sentiamo andiamo avanti qui c'è un mp40 ma noi non ci frega che abbiamo già le armi a posto beh in realtà la k è un po scarico giusto un pochino se ci fosse una munizione sarebbe buono eh però sono 35 colpi e dove l'altra arma l'ho persa me l'ha tolta no non deve che me l'ha tolta perché l'ho raccolto questa me l'ha tolto l'arma me l'ha tolta incredibile vabbè adesso abbiamo un mp 40 io mi aspetto sicuramente ci saranno degli zombie perché è un'ambientazione un po' così qua non si va da nessuna parte o andiamo di qua o andiamo dritto vediamo dritto cosa c'è dritto non c'è niente per se fosse un oggetto da raccogliere un tesoro ma evidentemente no sono tutti i tubi rotti perché ho il presentimento che arriveranno gli zombie e sono appassati gli zombie sembra tipo outlast ancora non abbiamo giocato sul canale però l'ambientazione sembra quella un po' desolato un po' da manicomi no ma lo sapevo che c'era uno zombie lo sapevo ma guardate colpi 75 colpi allora si devi morire ma c'è un altro là in fondo è morto così è morto così poi sono gli zombie un po' modificati eh 105 colpi allora mi ho fatto bene a prendere questa come arma rispetto alla K ha molti più colpi non si sa quanti ne ha ma io ho visto che c'era un oggetto quando io mi sono avvicinato alla porta c'era un oggetto qua un triangolo c'è scritto che c'era un triangolo non lo so fammi andare avanti che questo bunker mi sta distrutto qui è chiuso altri altri vai giù sapevo che venivi quindi c'è ti ho preceduto ok niente veniva da lì lo zombie quindi di qua è un labirinto allora di qua ok stiamo anche risparmendo colpi così si può ritrovare a lungo il tragitto perché vuole riempirmi un po' di colpi ecco lì 105 colpi ora c'è di qua c'è munizioni e un tesoro statuetta d'oro a forma di film 40 tesori su 60 cacciatore di tesori professionista ho sbloccato la nuova ricompensa nel negozio no 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 eccoli ma possiamo andare a riprendere i colpi perché prima non potevo prenderli massimo di 105 quanto pare allora andiamo avanti questo posto è pieno 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 di zombie pieno devo andare di qua devo andare dritto dovevo andare 105 qua c'è un altro tesoro no sembra di no è qua chiuso quindi c'è solo uno zombie qua da questa parte e noi dobbiamo andare di qua no ok totale animi sconfitto di darmelo a fuoco va bene sto salendo la classifica ne ho sentito un altro non mi spuntare all'improvviso perché io mi prendo un jumpscare non va bene qui c'è uno distrutto mofito troviamo sempre che non ci sono tesori perché ne abbiamo trovati 40 su 60 e sicuramente ne abbiamo mancati questa deve essere la sala dei generatori ok 105 colpi ci sono i colpi della pistola perché dovrei rigenerarli un po' ricaricarli no sempre munizioni peralmiche questa arma se tu ti ho questa arma qua va bene allora qua intorno non c'è niente c'è dei comandi no qui c'è il generatore questo triangolo devo muovere così ok in senso orario grazie a Dio qui c'è qui c'è